Il territorio comunale di Teramo potrà contare su 12 nuove stazioni di ricarica elettrica per le autovetture. Ognuna di queste colonnine avrà due prese a cui collegare le proprie auto per un totale di 24 punti ricarica. La dotazione di tali moderne infrastrutture nel capoluogo a Prutino è frutto di un protocollo d'intesa, siglato dall'amministrazione comunale con Enel X-Way. I cittadini dovranno ora scoprirne il funzionamento. Attualmente abbiamo installato 12 colonnine di cui 4 sono già attive e operative. Sono 9 colonnine in corrente alternata, quindi ciascuna presa di queste colonnine ricarica fino a 22 kW e 3 colonnine avranno anche la possibilità di ricaricare in corrente continua, quindi la ricarica più veloce fondamentalmente. Si tratta di un servizio molto semplice da poter usufruire perché l'utente dell'auto elettrica può ricaricare sia tramite le card sia tramite le app. Noi abbiamo un'app che è l'app di Enel X, Juice Pass. I tempi di ricarica? Siamo circa sulle due ore e mezza, ripeto, per poter fare un pieno, ma ovviamente chi si ferma a ricaricare può tranquillamente usufruire del servizio per poter fare un rabbocco di energia, quindi diciamo anche mezz'ora, 20 minuti. Questo sulla corrente alternata. Per quanto riguarda le prese in corrente continua, i tempi di ricarica anche proprio per un pieno si riducono, quindi parliamo di 40-45 minuti. L'installazione delle nuove 12 stazioni di ricarica elettrica in città è solo l'inizio dell'attuazione di un piano più ampio che ne prevede molte di più, dislocate anche nei siti particolarmente strategici come ospedale e supermercati e nelle frazioni di Teramo, come spiega l'assessore alla mobilità del comune Maurizio Verna. L'esigenza di questa infrastruttura, nuova infrastruttura sul territorio, è stata studiata, analizzata dal CITAM, l'Università dell'Aquila che si occupa anche di questi tipi di interventi. Si sono induvate 60 postazioni di un territorio comunale, di cui 44 su aree comunali e 16 su aree pubbliche, di cui alcune sono in fase di attuazione come queste e arriveremo tra pochi mesi a coprirne 20. Pensiamo in questo modo di coprire tutto il territorio comunale partendo dal centro, ai quartieri della città per arrivare anche alle frazioni più importanti di Teramo.